Tiago Motta, Maradona ha conquistato una storica Champions League con il suo Bologna. Abbiamo chiesto ai tifosi del Napoli dove sarebbe arrivata la squadra azzurra con l'Italo brasiliano in panchina. Ma non lo so perché secondo me sarebbe andata uguale, perché se noi sono proprio i giocatori che ormai non sono motivati. Quindi sarebbe andata con qualsiasi allenatore. Non lo so, perché vedo una squadra spompata. Quindi non so nemmeno se un nuovo allenatore poteva risolvere qualcosa. Ma è una scommessa, secondo me bisogna partire dai giocatori, dallo spogliatoio, poi l'allenatore viene in secondo momento. Ma non possiamo fare questi programmi, dobbiamo vedere. Ma è l'allenatore, è il presidente e sono i giocatori, è il misto. Eh beh, è una domanda che non ti so rispondere, è che è rossato Tiago Motta, se non lei fa le cose, come fai a dicere... Forse a Bologna l'è venuto buono e poi se la cale viene malamente. E ma penso che la Champions se l'avrebbe guadagnata. Ma guarda, non so dirti se Tiago Motta sarebbe stato l'allenatore giusto per una piazza come Napoli. Perché comunque Bologna è sempre una piazza di provincia. Quindi magari, sai, non ci sono tutte queste pressioni, non ci sono tutti questi obbligi, questa tifoseria così accesa. Non eccessivamente più in alto. Cioè, probabilmente in Champions no, ma sicuramente non avrebbe fatto queste figuracce.